È la famiglia Suelotto di Tezze sul Brenta che con la sua attività, una carrozzeria, si è allineata alla campagna Imprenditori di Cuore, promossa da Confartigianato in Presedicenza e ha donato con generosità quattro defibrillatori. Uno in partenza per l'Africa, uno per Scaldiferro, l'altro servirà il territorio Tezze sul Brenta e il quarto in officina a favore di tutti coloro che vi passano. Abbiamo messo questo valore aggiunto alle nostre aziende dicendo che c'è la possibilità di acquistare ad un prezzo vantaggioso questi defibrillatori in modo che in caso di problema cardiaco siamo pronti a salvare una vita. Ancora una volta le imprese di Confartigianato si dimostrano per quello che sono attori sociali sul territorio anche in un momento di difficoltà come questo.